Come dicevo, è complicato avere tutti e quindi si è fatta una scelta di racconto di un certo tipo, nel quale anche Emili Carlucci per esempio, Amare e Emili saranno insieme un bellissimo filmato e passiamo su quello, capisci? Come ieri ha dimostrato, lei lo sa, quindi non è un reato, è comprensibile la cosa. L'avresti voluta però, troppo. Ma certo, certo sì, molto volentieri, anche perché sono due regine per cui francamente mi sembrava importante che ci fossero. Senti, tra gli altri nomi che mancano, ce n'è uno in particolare che avresti voluto coinvolgere? Beh, Santoro mi sarebbe piaciuto, mi sarebbe piaciuto Giovanni, però sono talmente dei... cioè portarli dentro un qualcosa che è più spettacolo, io capisco che facciano fatica. un conto fare una serata dedicata per esempio solo all'informazione, da cui pare... cioè io racconterò Biagio Agnes e farò vedere Santoro, quando sono stati mandati via da Narai per esempio. quello è un passaggio importante, però dico, concentrarci su mille situazioni è veramente faticosissimo, anche perché io non perdo di vista il fatto che comunque devi fare spettacolo. Senti, l'omaggio a Mike Buongiorno ci sarà come se l'avete inserito all'interno? Mike Buongiorno viene... ci fa... faremo vedere il famoso balletto dei Quattro, uno delle leggende delle cineteche, no? Questo balletto con Tortora, Pippo che era appena arrivato nel gota della televisione, Mike e Corrado. e lì racconteremo attraverso Pippo la qualità fantastica di Mike, anzi tributerò a Mike un ulteriore passaggio, perché nei 50 anni della Rai che conduceva Pippo, fece una grande canzone fatta e scritta per Mike, lui ebbe un momento di commozione, vi ne lo faremo rivedere, quindi ovvio. Massimo, cosa non le piace della TV di oggi? No, io... guarda, penso che... sai cos'è? Troppo schiava dell'audience. Il limite più grande è quello, bisogna avere il coraggio di non essere schiavi dell'audience, di non creare sempre solo pubblico materasso a cui va bene qualsiasi cosa, deve rischiare di più. Ho detto che anche una TV importante come la nostra, come la Rai, deve avere più coraggio in certe direzioni. Il problema è che oggi tu, se fallisci dopo due o tre serate, sei chiuso. Io mi ricordo che per esempio a Rai, in cui sono nato io, testava dei prodotti su Rai 2, se funzionavano passavano poi in automatico su Rai 1. Era quello che una volta si faceva anche a media, se no, si testavano certi prodotti. Oggi non c'è più tempo perché tutte le reti devono vincere. Forse va ripensata questa idea. Quindi giovedì mattina alle 10 con quale stato d'animo sarai? Beh, è sempre una rottura infinita, quello che alle 10 di mattina quando escono i dati, è sempre, diciamo che è una cosa a cui non ero più abituato, che mi tocca, è inevitabile, è l'adrenalina. Massimo, quando è andato via Fabio Fazio, era spuntato il tuo nome come possibile sostituto. C'era stata una proposta in questo senso, di prendere il suo posto la domenica sera sulle tre? Ma se io sono una serata, oh, qua, non so quello che farà il futuro, possono avermi chiesto qualcosa del genere seriamente, no, non è successo, non importa. Poi nessuno sostituisce nessuno, ognuno di noi ha le sue caratteristiche. Dunque Fazio è un numero uno assoluto, quindi fa un buon lavoro anche dov'è. Massimo, hai parlato di essere in prova con la RAI, ma tu sei uno comunque a cui piace molto la libertà di azione, questo lo hai riconosciuto anche nel rapporto che avevo avuto con Cairo. Ritieni tu di essere in prova con la RAI o forse è questa RAI essere in prova con te per vedere se puoi fare determinate cose? Sarai molto arrogante a pensare se io metto la RAI in prova. È una prova reciproca, certamente. Guarda, aver superato questo test di produrre un grande evento così internamente è una cosa molto forte. La serialità è qualcosa di diverso. Nella serialità devi sederti, meditare, soprattutto in una televisione che ormai è talmente concorrenziale su tutte le fasce, in più sulle pay, quindi devi cercare di produrre quello che può funzionare. Però devi essere libero, la costante libertà è la parola, l'unica parola a cui non si può rinunciare, sia nel fare una cosa che nel fare l'altra. Massimo, una cosa. Hai detto che sei molto sereno in questo ritorno, però l'impatto emotivo del ritorno in RAI quando avete iniziato a parlare di questo impegno e nell'eventualità anche di altri, qual è stato? No, ma è l'impatto di un professionista che parla con un gruppo importante in cui è nato. Loro sanno chi sono. No, emotivamente, come l'hai vissuto? Proprio quando hai rivarcato quella soglia? Guarda, no, ma... Ma io non l'ho mai persa. No, ma io vedevo il cavallo tutti i giorni perché la mia redazione, forse è stato un dazio che ho dovuto pagare, era attaccata alla RAI. Io dalla finestra del mio studio vedevo la RAI. Però si cavi un po'? No, beh, lo trovavo curioso di essere lì e guardare l'azienda in cui sono nato, proprio a facciarmi tutte le mattine, quindi in realtà non mi sembrava di essere andato via da un certo punto di vista. Quindi il cavallo lo vedevo, non è che abitassi all'Euro, lavorassi all'Euro. Dai, però quando sei rientrato appunto e che se ne hai iniziato a parlare... Ma sei rinuziato a parlare? Insomma... Sì, dai, è ovvio, ovvio. Come quando me ne andai, i sentimenti erano diversi. Quando rientri hai la speranza di trovare di nuovo un approdo, quel senso di sicurezza, di piacere, di ritrovare anche il giardino uguale. Eh, la banca sempre là, è cambiato forse qualcosa al bar, neanche lì è cambiato niente. Ecco, speri anche che cambi qualcosa altro, ma al resto... Vuol dire un ritorno a casa, quindi? È un ritorno a casa, assolutamente. Diva Dio, c'è ancora qualcuno che ha la casa e ci tiene. Ma considerando che, insomma, l'età c'è pure, potrebbe essere l'ultimo ritorno a casa, quello defini Dio. Quello... Te li porti bene, Massimo, te li porti benissimo. Io l'oculo di famiglia ce l'ho. Ecco, se devo proprio andare in un posto sicuro vado nell'oculo di famiglia. Quello è fisso, c'è già posto, io ho già detto dovevo essere seppellito in alto, in base... Ma prima di 404, dicevo io. Ma la vita è così complicata che non siamo... L'importante è essere sereni e vivere bene. Grazie. Senti, abbiamo visto questa cravatta Juventus, semperiamo un po' la tensione, come sta andando questa Juve che è tornata a vincere? Ti sta piacendo? Beh, credo che la Juve debba fare delle decisioni importanti per il suo futuro, le debba prendere in fretta perché quest'anno ha fatto i miracoli, era dopata. Cioè i punti che vedete della Juventus sono inimmaginabili, guardando i giocatori che ha. Quindi credo che bisogna fare un pensiero importante per il futuro, non aspetta a me raccontarlo, ma credo che sia importante trovare un vertice. Io sono convinto che la fatica della Juve si deriva dall'aver perso Marotta e il successo dell'Inter è Marotta. E io penso sempre che siano i vertici a determinare il successo di un gruppo, ovunque. Perfetto. Grazie. 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 Grazie.